Perfetto. Allora, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme... Allora, c'è una domanda specifica sui gruppi. Ne parliamo e quindi tra poco rispondo. Faccio un veloce riepilogo della parte di espressioni regolari, quindi rispondo alla domanda poi dopo durante gli esempi di codice. Se non ho risposto, magari ricordamelo così, ti dico esattamente come funziona. La risposta veloce è che il gruppo zero è tutta la stringa. Allora, prima di iniziare, qualche informazione sugli esami. Ragionevolmente riusciremo a fare gli esami utilizzando quello che si chiama il virtual live, ovvero voi vi collegherete da casa, tramite il browser vedrete quello che è un PC equivalente a quelli che sono disponibili nel live. Vi faccio vedere velocemente di che cosa si tratta. Quindi quello che dovreste vedere quando vi collegate è all'incirca questo. Quindi questo è un browser, al suo interno vedete il desktop che corrisponde a un PC, ovviamente usa VMware per fare il collegamento, quindi vi verranno date all'interno della pagina da cui potete accedere a questo link, delle credenziali, nome utente, vedete che è un nome strambo, e una password generati in maniera automatica. A questo punto, se fate il login, perfetto, vediamo un po'. Se riesco a... Eccolo qui, scusate, l'avevo preparato prima, probabilmente... Era in ritardo, ecco, a questo punto vedete che prepara sostanzialmente l'accesso a window, e quindi vi ritrovate quello che dovrebbe essere una macchina, quindi è un po' leggero. Allora, domanda, ci sarà il lockdown browser? Sostanzialmente questo meccanismo è integrato all'interno del lockdown browser. Quindi ci saranno delle domande fatte con il sistema exam che viene utilizzato anche in altri corsi, e poi ci sarà il link per poter andare a aprire questo collegamento. A questo punto... Vediamo un attimo, eccoci qua. Vabbè, c'è una stampante che direi che ci è poco utile. Vedete, io muovo il cursore esattamente come lo muovo sul mio schermo. A questo punto andate in... dove si trova... programmi vari e avviate Eclipse Oxygen 2. A questo punto parte Eclipse. Ricordatevi che C2.temp non è mai un buon posto in cui andare a creare il workspace, e quindi quello che vi consiglio è di fare un browser, andare sotto la cartella che corrisponde al vostro utente, creare una nuova cartella che potete chiamare workspace, e poi selezionare questa. A questo punto lanciate... e ecco che vi appare Eclipse. A questo punto andiamo nel Workbench. Allora, allargo a tutto schermo così è più facile da vedere anche per tutti. crea un progetto da zero così lo vediamo velocemente. Prova. Qui dentro vado a creare un nuovo... una nuova classe. Qui chiamiamo Prova con un main. Vediamo se... Ok. Con CTRL più potete ovviamente aumentare e ridurre le dimensioni del font. E quindi... a questo punto saldiamo e lanciamo l'esecuzione. E l'output è qui sotto. Ok. Giusto per farvi vedere una piccola dimostrazione di prove che avevo già fatto. Quindi voi vi collegate, fate l'operazione. In realtà dovrete fare un file import svn, project from svn, eccetera, eccetera. Vi daremo l'url, il nome utente, la password del vostro repository. Ci sarà un repository apposta per l'esame. farete il check out, lavorerete sul progetto, dopodiché alla fine farete un team commit. Magari lo farete anche prima della fine, quindi la mia raccomandazione è di non fare un commit alla fine, ma farlo più volte durante l'esame, per poter andare a utilizzare le caratteristiche di subversion che sostanzialmente vi danno la possibilità di salvare le versioni intermedie. per la documentazione qui non c'è, però nel link che vi metto a disposizione, esattamente come nei link che voi avete all'interno degli esercizi, ci sono dei link alla documentazione, quindi dai requisiti ci sarà un link alla documentazione che si troverà sul sito OOP Polito IT. ovviamente c'è un minimo di documentazione, nel senso che se voi andate, allora vado qui su println, allora qui non mi ha trovato javadoc, comunque avrete javadoc separatamente. domanda, il layout della tastiera Mac non dà problemi? sostanzialmente no, l'unica cosa è che ad esempio per salvare dovete fare CTRL S, che è la combinazione Windows, invece di CMD S, che è quella che utilizzereste sul vostro Mac. Per il resto, io sto usando questo da Mac, la macchina virtuale, come vedete, è una macchina Windows, tra l'altro di qui non vedete tutto, ecco, in realtà c'era un pezzo tagliato, scusate, ho il solito problema di visualizzazione dello schermo, non ho avuto particolari problemi con la tastiera del Mac. Il browser che sto utilizzando è Firefox, la raccomandazione è utilizzare Chrome, che è un po' più compatibile, ma ragionevolmente dovrebbero funzionare. Dovreste poter utilizzare, dovreste poter fare delle prove, e quindi collegarvi a delle macchine virtuali in orari predefiniti. Adesso appena recupero le informazioni, vi dico come si può fare. L'esercitazione, non di questa settimana, ma della settimana successiva, verrà fatta in questo modo, in modo che voi possiate provare tutto e soprattutto noi essere sicuri che non ci siano problemi. a quel punto, se la esercitazione della settimana prossima andrà a buon fine, allora confermeremo questa modalità d'esame. Allora, sulle slide dobbiamo ancora decidere perché non è detto che siano accessibili su queste pagine, però è probabile di sì che siano accessibili durante l'esame. Allora, il problema è che essendo questo all'interno di un browser bloccato, se voi uscite dal browser e utilizzate qualche altro canale, non funziona. Quindi dobbiamo valutare esattamente se c'è la possibilità di avere un canale alternativo per fare delle domande in modo che siano chiare a tutti. in questa modalità non è possibile. Vediamo se c'è qualche modo di aggiungere delle possibilità. Purtroppo, non essendo in presenza, è molto difficile. Allora, ultima domanda. Come facciamo per ottenere il programma da finire sul nostro PC personale? Sostanzialmente voi riceverete le credenziali che utilizzate per fare il checkout del progetto di partenza, farete il commit e quelle stesse credenziali potrete poi utilizzarle da casa per, in realtà da casa, siete comunque sempre a casa, diciamo dopo l'esame, quando vi verranno anche inviati i test per poter poi completarli. Quindi, in realtà vi arriverà l'email con l'esito dei test, il link al file jar che contiene i test che sono stati utilizzati e nell'email stesso ci saranno anche le credenziali che potete utilizzare, che sono le stesse che avete utilizzato durante l'esame. domanda. Non potrete finire l'esame prima del tempo? Non so esattamente che cosa significa. Doppio schermo. Allora, consegnare prima del tempo non so se ci sono dei vincoli sulla piattaforma exam, però ragionevolmente penso di sì, nel senso che dovete finire entro una certa data, quello che sarà sul repository entro quella data e ora è quello che per noi fa fede. Quindi se fate un commit dopo non conta. Sul doppio schermo la domanda è più che legittima, me la segno, ok? Quindi, una domanda e il doppio schermo sul consegno della prima credo di sì, ma verifico. Purtroppo questo sistema è in piedi da poco e quindi non abbiamo tutte le... Per le domande, è un suggerimento, per le domande si può fare un repository con un file text o condiviso in cui voi scrivete, fate un commit, potrebbe essere una soluzione. Diciamo che nel caso in cui non troviamo una soluzione un po' più tecnologicamente avanzata, questa potrebbe essere diciamo un repo con le domande in cui voi potete comunque tutto sommato accedere direttamente tramite il browser. Quindi mettiamo un link nei requisiti a quel repository in cui voi potete accedere. Eventualmente lo scaricate in un progetto separato. Domanda dopo quanto tempo e quanto tempo avrete immagino si riferisca ai test, dopo quanto tempo avrete i test e quanto tempo avrete per completarlo? Allora, i test normalmente arrivano nel giro di 24 ore, quindi entro il giorno successivo. il tempo per completarlo dipende esattamente dalle date, adesso non ricordo le date, però normalmente da 3 a 5 giorni lavorativi, quindi non è immediato, vi diamo qualche giorno di tempo per poterlo completare, anche tenendo conto che normalmente ci sono spesso esami nello stesso periodo. Quindi avete qualche giorno di tempo per consegnarlo. Allora, questa è la modalità di esame che noi pensiamo di utilizzare, ovviamente c'è la verifica che faremo con il laboratorio della settimana prossima per verificare che tutti riusciate ad accedere, non ci siano problemi e abbiate tutti l'occasione di provarlo in un contesto analogo a quello dell'esame. Una volta che questo piccolo test andrà a buon fine, a quel punto vi confermiamo la modalità dell'esame e vi pubblichiamo tutti i dettagli sulla procedura. Allora, domanda come funziona il completamento del codice dopo l'esame? Possiamo modificare tutto ciò che abbiamo fatto? La risposta è sì. Una volta che voi avete consegnato il vostro progetto entro la scadenza dell'esame, come dicevo prima, nel giro di 24 ore arrivano dei test e arrivano un'email con i test e il risultato esattamente come avviene per i laboratori che avete fatto finora quindi non c'è molta differenza. A quel punto voi potete andare sul vostro repository, scaricare il progetto, mettere dentro i test, eseguirli e quindi verificare voi il superamento o meno dei test e andare a fare le modifiche necessarie perché il vostro programma superi tutti i test. Nel fare queste modifiche voi non avete nessun vincolo. Ovviamente più modifiche fate più basso sarà il voto. Ok? Meno modifiche fate e più alto sarà il voto. Quindi se per assurdo il vostro programma non passa neanche un test ma in realtà non lo passa perché avvate dimenticato un'unica istruzione in uno dei requisiti di base non so avvate dimenticato di inizializzare un attributo fondamentale per tutto il funzionamento ecco se voi aggiungendo quella riga riuscite a far passare tutti i test e tutto il resto del codice non lo toccate è ragionevole che non prenderete zero che corrisponde a zero test superati ma prenderete un voto che potrebbe anche essere alto quindi non vi dico dei numeri perché in realtà dipende dall'esame dipende dalla complessità dei test dal numero di test eccetera però meno modifiche fate meglio è in termini di voto domanda nella malogratta ipotesi che il sistema non reggesse allora io immagino che il numero di persone che saranno presenti nelle esercizazioni della settimana prossima non di questa settimana sia più o meno analogo al numero di persone che saranno presenti all'esame quindi qualche centinaio di persone se il sistema non regge nell'esercitazione cercheremo un'altra soluzione che non usi questo e quindi ragionevolmente vi faremo fare il compito sui vostri pc con il vostro eclipse senza il il virtual live nel caso in cui non regga in sede d'esame voglio sperare che non succeda ma è sostanzialmente è lo stesso caso in cui voi l'aveste fatto in live e ci fosse stato un blackout ok è un evento diciamo improbabile in quel caso cerchiamo una data in cui farlo recuperare allora domanda nel caso in cui non facessi modifiche semplicemente perché non si riesce a completarlo allora cerco di interpretare la domanda se voi siete arrivati fino a un certo punto immaginate di avere cinque requisiti avete fatto quattro requisiti e quelli sono perfetti il quinto requisito non avete avuto tempo di svolgerlo durante il tempo dedicato nell'esame ovviamente dovrete aggiungere del codice quello conta come una una modifica quindi tutto il codice che voi andate a cancellare modificare o ad aggiungere per me è una modifica e quindi dipende quanto mancava a completare il vostro compito sia in termini di codice cambiato che in termini di codice che mancava e che quindi avete aggiunto allora il motivo per cui i test non passano non è oggetto di valutazione quindi se il test non passa non passa e quindi vale zero è ovvio che se il motivo per cui non passano i test è banale sarà probabilmente banale anche la modifica e quindi di conseguenza se la modifica che dovete fare per andare a far passare i test è molto ridotta ovviamente in terreno conto quindi immaginate la formula del voto finale è S cioè il numero di successi più 1 su M dove M è il numero di modifiche e quindi più le modifiche sono ristrette più sostanzialmente conta il numero di test che avete superato se avete superato pochi test però avete fatto poche modifiche il secondo elemento ovviamente cresce e quindi va verso l'infinito infinito visto che i voti stanno tra 0 e 30 vuol dire 30 quindi se prendete un voto che supera 30 viene rinormalizzato a 30 quindi l'infinito non è previsto allora le modifiche sono calcolate circa come numero di caratteri sì ma prevengo l'idea geniale che potrebbe venire a qualcuno se voi mi scrivete tutto il programma sulle righe una attaccata all'altra questo non funziona perché comunque i programmi prima di essere confrontati quindi quello che avete consegnato in laboratorio e quello che poi consegnerete da casa vengono riformattati completamente quindi come voi andate a formatare il codice è irrilevante allora se non riuscite a completare il programma l'esame è non superato quindi è insufficiente quindi voi siete a casa avete un certo numero di giorni di tempo non avete vincoli in termini di risorse a cui accedere quindi se non riuscite a superare a far superare tutti i test al vostro programma l'esame è non superato ok torneremo poi nelle prossime settimane a riepilogare la procedura d'esame e quindi i vari passaggi i commenti è consigliabile evitarli no i commenti metteteli pure i commenti vengono non vengono considerati quando viene fatto il confronto quindi potete mettere tutti i commenti che volete non succede nulla anzi magari vi servono domanda tra una correzione con più codice e una correzione con meno codice a parità di correttezza vale quella con meno linee sì quindi se mi scrivete il codice mi scrivete un'espressione che richiede 10 righe di codice quando in realtà avreste potuto scriverla con una ovviamente la correzione con meno righe vi darà un punteggio più alto ovviamente meno righe una volta che è stato riformattato il codice quindi non è che come dicevo prima scrivendo tutto il programma su una riga sola tutto funziona ok a questo punto se non ci sono altre domande su questo aspetto volevo farvi vedere sostanzialmente come funziona il meccanismo quindi vedete che quello che io ho fatto qui in questo contesto in questo collegamento alla macchina virtuale è sostanzialmente quello che potreste fare direttamente voi o quello che potrei fare io direttamente con Eclipse e quindi non cambia ovviamente la velocità di risposta non è esattamente quella di avere Eclipse che funziona sul vostro sul vostro pc però tutto sommato avete visto che anche scrivendo la cosa non è particolarmente problematica ma ripeto ci sarà la possibilità di provarlo direttamente nel contesto del laboratorio della settimana prossima quindi ci sarà poi una verifica a valle di quello il mio obiettivo non è mettervi in difficoltà o bocciarvi e farvi superare tutti l'esame con un voto alto ovviamente rispettando quelle che sono le regole generali del Politecnico che chiedono che ci sia un minimo di controllo su quello che voi fate a distanza per evitare ovviamente comportamenti non etici o illeciti sarebbe dici sollecitare la presenza di più studenti possibili per vedere la piattaforma sicuramente io lo sto dicendo a voi ovviamente lo annuncerò sulla pagina del corso per cui mi auguro che chi è interessato a superare l'esame venga a fare una prova ok poi in base al quanto osservato in passato diciamo che qualcuno non è molto interessato all'esame o a superarlo e quindi non ci sarà però immagino la maggioranza di voi che siete presenti qua i colleghi degli altri corsi paralleli saranno sostanzialmente presenti sì anche perché non sarete soli usare i server allora l'uso di queste macchine virtuali del live virtuale sostanzialmente viene fatto in muta esclusione per cui i server che ospitano queste macchine a cui vi collegherete quel giorno almeno nel periodo di tempo allocato per questo esame saranno sostanzialmente soltanto per programmazione d'oggetti quindi da quel punto di vista non dovrebbero esserci problemi è possibile è possibile che ci sia un numero massimo di macchine virtuali attivabili contemporaneamente in questo caso faremo dei turni un po' come si faceva quando i live quando l'esame veniva fatto nei live quindi il numero di postazioni disponibili era definito e quindi venivano fatti dei turni diversi per cui non aspettatevi di fare l'esame necessariamente al mattino alle 8 e mezza o all'orario iniziale è possibile che ci siano più turni ok questo però lo sapremo una volta che avremo informazioni dettagliate dall'area IT che supporta l'aspetto informatico e sapremo quanti sono gli studenti prenotati per l'esame altro aspetto che dovrebbe tranquillizzarvi se cade la connessione quindi vi scollegate alla macchina virtuale se vi ricollegate entra un tempo ragionevole nel senso di qualche decina di minuti la macchina virtuale viene la ritrovate esattamente nelle condizioni in cui l'avete lasciata quindi se avevate Eclipse aperto e vi cade la connessione ricollegandovi vi ritrovate Eclipse aperto e pronto domanda nel caso ci fossero esami lo stesso giorno dovremmo comunicarglielo sì se mi fate sapere se qualcuno di voi ha esami per dire al mattino o al pomeriggio quando faremo i turni cercheremo di tenerne conto non fatelo adesso perché è inutile però fatelo diciamo qualche giorno prima dell'esame diciamo una settimana prima in modo che noi abbiamo tutto il tempo di sapere se ci sono dei vincoli nel formare i turni e quindi cerchiamo di nei limiti del possibile di evitare di mettervi una sovrapposizione ok in ogni caso manderemo un'email a tutti quelli che sono prenotati per l'esame chiedendo se ci sono dei vincoli particolari ok ovviamente la motivazione dovrebbe essere una motivazione valida nel senso che se avete un esame in parallelo va bene se al pomeriggio avete la finestra col sole in faccia no ok quindi nel caso ci siano motivazioni valide cercheremo ovviamente di venire l'incontro la connessione da cellulare per fare l'esame comporta maggiore probabilità di disconnessione la risposta è la solita risposta del buon ingegnere nel senso che dipende dipende da dove sei dipende da come la copertura cellulare dove ti trovi per cui non sono in grado di dare una risposta definitiva dipende un po' anche dalle connessioni che voi fate in questo momento perché quello che state ricevendo ora è uno stream video di quello che sto dicendo io e dei dati quindi quello che vedete nel caso dell'esame riceverete uno stream video del pc della macchina virtuale a cui siete connessi l'unica piccola differenza è che ovviamente potrete anche inviare dei comandi alla macchina virtuale cosa che qui non fate però qui magari scrivete in chat qui avete anche lo stream video della mia webcam dell'audio quindi tutto sommato diciamo che la la banda necessaria per seguire una lezione è più o meno analoga alla banda necessaria per riuscire a utilizzare queste macchine virtuali per cui ovviamente se avete problemi critici non riuscite mai a connettervi perché avete problemi di connessione e purtroppo voglio dire non è colpa vostra cioè se vi ritrovate io poi queste cose magari le scriverò via mail in modo che tutti le ricevano per cui se vi ritrovate in una condizione in cui avete problemi di connessione e non riuscite a connettervi ovviamente fatemelo sapere perché è un problema l'idea è che dovreste avere tutti la possibilità di sostenere l'esame nelle condizioni ideali quindi è una situazione di emergenza cerchiamo di venire incontro a tutte le vostre esigenze a questo punto eccomi qua faccio il logout vedete che qui mi sono disconnesso quindi la mia macchina virtuale è terminata e posso chiudere ok spero di avervi tranquillizzato la cosa non era preparata l'ho fatta dal vivo proprio per dimostrarvi che è una tecnologia che funziona abbastanza bene ma ripeto ci sarà la prova del del laboratorio della settimana prossima in cui voi potete direttamente utilizzarla e eventualmente verificare se ci sono dei problemi e se ci sono dei grossi problemi la settimana prossima cercheremo un'altra soluzione che eviti i problemi durante l'esame ci sarà un timer per 10 quanto tempo rimane bella domanda non so se c'è un timer ma lo verifico se è possibile aggiungerlo comunque vi diamo l'ora di inizio e l'ora di fine è ovvio che dal vivo se io sono in un laboratorio e scopro che in quel laboratorio ci sono tanti problemi di connessione posso ovviamente concedere un'estensione in questo caso io non ho il controllo diretto cioè c'è un monitoraggio ma non posso andare a vedere le singole persone quindi ci sarà l'opportuno livello di tolleranza da parte nostra nell'andare poi a correggere il compito e a valutarlo quindi ripeto né io né i miei colleghi vogliamo essere punitivi per una situazione che è oggettivamente problematica per tanti io vi farei anche volentieri un orale a tutti in collegamento diretto facendovi scrivere un frammento di codice il problema è che un orale di quel tipo porta via 20-30 minuti ci sono circa 200 persone che vogliono sostenere l'esame quindi fate voi il calcolo io passerei le mie giornate a fare l'orale e ovviamente avendo quattro corsi a cui pensare inizierei l'orale il primo luglio e li finirei il 31 agosto per cui non è oggettivamente fattibile questa è una soluzione intermedia che vi mette con Eclipse vi permette di scrivere il codice l'alternativa è farvi scrivere il codice all'interno di una casella di testo in un browser senza il feedback di Eclipse senza poterlo eseguire che è una situazione che mi pare poco realistica e poco consona a quello che è il contenuto dell'esame allora aprire una chat all'interno della VM non credo ma di nuovo verifico se è possibile magari all'interno del sistema exam avere una chat che permetta di di fare questo tipo di di interazione se no possiamo avere una chat magari sul sito OOP in cui potete andare a fare delle domande e comunque cerchiamo una soluzione anche a questo ripeto il sistema è in piedi da poco quindi non abbiamo neanche avuto modo di sperimentarlo spero la settimana prossima di avere un sistema funzionante e il più possibile simile a quello che troverete durante l'esame a questo punto chiudiamo il discorso esami abbiamo tempo di nuovo vi garantisco che cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile cercando di complicare il meno possibile la vita a voi innanzitutto e a noi e veniamo a parlare di Java l'argomento dell'ultima lezione che vi ho pubblicato è quello delle espressioni irregolari che sono uno strumento molto utile per andare a fare un'analisi del testo riconoscendo certi formati e andando a estrarre delle informazioni come funzionano le espressioni irregolari facciamo un riepilogo veloce scrivendo in termini di testo allora l'espressione irregolare è sostanzialmente una sequenza di caratteri che descrive le regole con cui io posso andare a scrivere del testo se vediamo l'espressione regolare come un generatore di testo oppure andare a riconoscere del testo che segue quelle regole come faccio a utilizzare un'espressione irregolare allora in sintesi quando vado a costruire un'espressione irregolare vado a tradurla in quello che è un autome quindi una macchina stati io sono in uno stato se il prossimo carattere che incontro corrisponde a una possibile transizione passo da uno stato all'altro e vado avanti così muovendomi da uno stato all'altro finché termino la mia sequenza di caratteri oppure ho riconosciuto quello che volevo riconoscere per andare a costruire questa macchina stati viene utilizzata una classe che si chiama pattern che posso andare a costruire con il metodo statico pattern punto compile in cui passo una stringa che contiene l'espressione regolare facendo riferimento all'ultimo laboratorio quindi la versione estesa del laboratorio dieta ad esempio voglio poter andare a riconoscere degli orari gli orari come sono fatti sono fatti con una cifra numerica un'altra cifra numerica un due punti e poi un'altra coppia di cifre numeriche per andare per andare a indicare una cifra numerica posso andare a mettere quello che si chiama un sette di caratteri quindi delle quadre quindi quando vado a scrivere tra quadre zero trattino nove significa ve lo scrivo qua un qualunque carattere da zero a nove quindi questo vuol dire che quell'espressione regolare che abbiamo scritto fino a questo momento è in grado di riconoscermi un numero una cifra abbiamo detto che noi abbiamo bisogno di due e quindi prima seconda cifra due punti le altre due cifre ok quindi questo mi ha costruito sostanzialmente quella che la macchina statica è in grado di riconoscere le sequenze di cifra numerica cifra numerica cifra numerica due punti cifra numerica cifra numerica per poterlo eseguire quello che dobbiamo fare quello che dobbiamo fare è andare a creare quello che si chiama un matcher m uguale re punto matcher il matcher deve essere agganciato a un input ovvero una sequenza di caratteri per cui ad esempio andiamo a mettere 0.9 2.24 matcher deve essere importato e si trova nella package java punto utile regex esattamente come la classe compile a questo punto ho inizializzato il matcher e posso andare a fare if m punto matches quindi se quell'espressione regolare è in grado di riconoscere quella sequenza di caratteri cioè corrisponde allora matches mi restituisce true altrimenti mi restituisce false per cui in questo caso andrò a scrivere system out println riconosciuto altrimenti vado a scrivere non riconosciuto per cui se vado ad eseguire il mio codice quello che ottengo è sostanzialmente riconosciuto perché quella stringa lì corrisponde alla nostra sequenza che è descritta dalla espressione regolare cifra numerica cifra numerica due punti cifra numerica cifra numerica è ovvio che se io ad esempio vado a togliere lo zero iniziale questo non mi viene più riconosciuto perché la prima cifra numerica viene riconosciuta e corrisponde a questa subito dopo si aspetta un qualunque carattere da 0 a 9 e invece si trova un due punti risultato non viene riconosciuto l'espressione quindi la stringa non corrisponde all'espressione regolare domanda il matcher fa una lazy evaluation sì la corrispondenza viene fatta nel momento in cui chiamo matches quindi questa operazione semplicemente inizializza quello che è il riconoscitore quando chiamo il metodo matches viene effettivamente fatto il tentativo di trovare la corrispondenza se volesse andare a riconoscere anche il caso in cui ho un'unica cifra invece di 2 quello che posso fare è andare a dire che questa seconda cifra numerica è in realtà opzionale ve lo faccio qua sotto ok così vi scrivo un'altra un'altra espressione utilizzo ovviamente le variabili di prima vado a dire che questa seconda cifra è opzionale e quindi lo faccio andando a mettere il punto interrogativo il punto interrogativo si applica all'elemento immediatamente precedente per cui in questo caso andando ad eseguire il codice il primo non me l'ha riconosciuto perché riesco a farcelo stare tutto in un'unica espressione il primo non me l'ha riconosciuto perché mi si aspettava esattamente due cifre il secondo si aspettava una cifra poi la seconda cifra è opzionale ma sicuramente o c'è la cifra oppure c'è un due punti per cui in questo caso la prima cifra la riconosce la seconda cifra è opzionale ma dopo c'è un due punti ok e quindi sono in grado di riconoscerlo attenzione che quando ho delle espressioni regolari invece di utilizzare quel set di caratteri un altro modo di andare a rappresentare le cifre numeriche è sostanzialmente il set di caratteri 0 39 equivale a backslash d dove d sta per digit per cui qui posso andare a mettere invece di questo backslash d ovviamente essendo all'interno di una stringa il d devo metterlo quotato quotato quindi l'espressione regolare deve essere backslash d quindi se io scrivo backslash d la stringa mi interpreta il d come un codice particolare quindi non me lo riconosce quindi ricordatevi che tutte le volte che io ho una stringa devo andare quando ho il backslash a quotarlo in questo modo allora domanda allora finisco questo poi rispondo alla domanda che c'è in chat quindi andando ad eseguire ovviamente è questo è uguale a quell'altro e quindi funziona benissimo domanda possiamo mettere invece di quello un'altra espressione in cui invece di mettere le cifre 0,9 andiamo a mettere le cifre non da 0 a 9 ma da 0 a 2 e poi l'altra cifra opzionale sì in questo caso vado a dire che la prima cifra deve essere o uno 0 o un 1 oppure un 2 lo posso scrivere così da 0 a 2 oppure 0,1,2 che in realtà occupa lo stesso pazzo e significa esattamente la stessa cosa quindi in questo caso di nuovo ho scusate devo salvare ho un riconosciuto no scusatemi è il contrario devo mettere questa come opzionale e l'altra seguita ok quindi se ho due cifre la prima deve essere o uno 0 o un 1 o un 2 la seconda da 0 a 9 ok in questo caso tutto funziona correttamente ok quindi sì ovviamente usando questo pattern se io vado a mettere le ore ad esempio 32 e 24 ora che non esiste mi dice non riconosciuto quindi ho un controllo in più attenzione se io devo andare a verificare l'orario posso fare il controllo o in questo modo quindi andando già in fase di riconoscimento dei caratteri a trovare l'errore oppure posso scrivere un'espressione molto più generica tipo quella che ho messo qua sopra e poi andare a estrarre il valore corrispondente a queste due cifre decimali e andare a verificare che effettivamente sia compreso tra 0 e 24 ok sono due alternative diverse a questo punto come faccio a dire che cosa ho riconosciuto che cosa ho riconosciuto quando ho il matcher quello che mi riconosce me lo va a mettere in una variabile che si chiama group il group è sostanzialmente tutto il gruppo di caratteri che è stato riconosciuto per cui scusate l'ultimo era non riconosciuto quindi non funziona qui lo vado a mettere qua sopra qui ok e va andando a eseguire il tutto ovviamente salvando vedete che ho riconosciuto e a questo punto qui sotto ho 9 e 24 ok quindi la sequenza di caratteri che ho riconosciuto ovviamente così mi riconosce tutto a volte è molto comodo se io devo riconoscere una sequenza di caratteri magari complessa e composta da più elementi utilizzare quelle che si chiamano quelli che si chiamano i gruppi di cattura e quindi invece di scrivere questo manteniamo questa versione che è l'ultima che abbiamo messo domanda senza l'indice prende tutto ciò che è stato riconosciuto l'indice c'è se io voglio andare a mettere tra parentesi tonde ad esempio la prima coppia di caratteri e tra parentesi tonde la seconda ok quindi in questo caso le coppie di aperta e chiusa identificano dei gruppi di cattura in particolare il gruppo di cattura 1 e il gruppo di cattura 2 questo è l'uno e questo è il 2 esiste poi un gruppo di cattura 0 che è se volete tutto questo tranne ovviamente le parentesi tonde che sono quelle sono delle notazioni sintattiche e non rappresentano delle parentesi tonde che effettivamente devono essere riconosciute nell'input quindi tutto questo è quello che si chiama il gruppo 0 a questo punto se facciamo mettiamo un un valore corretto vado a dire che ho riconosciuto tutto il gruppo e poi posso andare a stampare i vari gruppi quindi gruppo 0 1 e 2 quindi queste se volete corrispondono alle ore scusate questo è il tutto queste sono le ore e questi sono i minuti ovviamente gruppo e gruppo di 0 sono sostanzialmente la stessa cosa quindi salvo eseguo e quindi ottengo il gruppo totale che corrisponde al gruppo 0 e poi 12 che sono le ore e 24 che sono i minuti a questo punto quello che posso fare facilmente è andare a dire int ore uguale a integer punto par int m punto group di 1 e mm i minuti ovviamente nella stampa è inutile avere la conversione numerica però è comodo una volta che ho i valori per andarli a memorizzare o per fare qualunque operazione di somme sottrazioni confronti eccetera quindi a questo punto avete ore e 12 minuti 24 dopo aver fatto la conversione in intero i due punti fanno sempre la separatoria no i due punti fanno la separatoria perché io li ho messi qua se volessimo andare a riconoscere il trattino vi faccio l'esempio volendo riconoscere una data quindi vado a mettere data il formato è ad esempio quello 2020 trattino 05 trattino 25 ho un primo gruppo che è il di ripetuto 4 volte posso anche scriverlo in questo modo con le graffe 4 ho un altro ho un altro di scusate qui ho un trattino poi ho un di ripetuto due volte un trattino e poi ho di ripetuto due volte le graffe sostanzialmente mi danno un numero esatto di ripetizioni a questo punto posso fare m uguale data punto match andiamo a mettere la data di esempio che ho indicato qua e poi posso fare un system punto scusate if m punto matches scus system punto out punto print ln anno m punto gruppo il primo gruppo 1 mese il giorno e qui vado a mettere il gruppo 2 e il gruppo 3 ok quindi se non ho sbagliato nulla ho dimenticato di chiudere il gruppo vedete ho messo l'aperta ma ho dimenticato la chiusa a questo punto vedete 2020 0,525 backslash backslash d sostanzialmente come vi dicevo prima forse l'ho letto molto velocemente qua su l'espressione regolare 0 trattino 9 come classe equivale a backslash d essendo una stringa il backslash lo devo quotare e quindi questo backslash backslash d equivale a un backslash d semplice nella nostra espressione regolare perché non è necessario un backslash prima del trattino allora giusta osservazione non è necessario mettere un backslash prima del trattino perché il trattino viene interpretato come intervallo soltanto all'interno della classe di caratteri quindi io posso mettere ad esempio 0 trattino 9 0 trattino 9 chiusa quadra trattino questo trattino qui è veramente il trattino meno questo rappresenta un intervallo se se io volessi mettere un trattino all'interno di un intervallo dovrei fare una cosa del tipo 0 trattino 9 quindi qualunque carattere ad 0 9 poi metto un altro trattino come ultimo o potrei anche metterlo come primo carattere della classe di caratteri e in quel caso viene interpretato come trattino è un po cervellotica come soluzione però per evitare di dover andare a quotare anche i trattini quando in realtà sono utilizzati esclusivamente qui come intervalli nelle classi al di fuori delle classi non hanno nessun significato mentre invece il punto interrogativo si la parentesi si quindi se io volessi andare a riconoscere una parentesi dovevi mettere backslash che all'interno di una stringa significa doppio backslash e aperta tonda per riconoscere una capo in realtà per riconoscere una capo posso utilizzare sia uno che l'altro il backslash n è il carattere di a capo quindi mi riconosce quel carattere così tale e quale o se voglio riconoscere un tab backslash t perché quello è il carattere di tabulazione quindi in questo modo io riesco diciamo in maniera abbastanza facile a garantire che una stringa possa essere riconosciuta e posso andare a utilizzare i gruppi per andare a estrarre delle sottoporzioni cosa che è molto comoda che altrimenti dovrei andare a fare andando a cercare la posizione del trattino andando a prendere i primi quattro caratteri poi quelli dopo eccetera cosa che è un po' complicata attenzione che ad esempio io qua invece di avere quattro caratteri potrei avere la variante con due e quindi andare a mettere soltanto decine unità dell'anno e non tutta dalle migliaia in avanti quindi qui invece di andare a mettere quattro volte dovrei andare a mettere oppure la cifra ripetuta esattamente due volte quindi o due cifre oppure quattro per cui ad esempio potrei andare a riconoscere semplicemente 20 05 25 ok attenzione altro modo di scrivere questa espressione invece di mettere quattro volte o quattro cifre oppure due cifre potrei andare a mettere due cifre e poi altre due cifre col punto interrogativo quindi devo averne due e poi ne posso avere altre due quindi in questo caso di nuovo fatemelo scrivere così questo lo scrivo lo ritorno a scrivere intero e quindi riconosco anche in questo caso ok no l'ultima non mi viene data non me lo riconosce a lot allora non l'ha riconosciuto non so perché dovevo mettere delle tonde ok a questo punto allora il punto interrogativo lo posso mettere qua sui secondi oppure sui primi in realtà le due cose sono tutto sommato analoghi il punto è che io per applicare il punto interrogativo lo voglio applicare a tutta questa espressione quindi se metto il punto interrogativo qua sotto non me lo viene riconosciuto correttamente il punto è che in questo modo avendo messo delle parentesi tonde qua i gruppi di cattura sono diventati diversi quindi io ho un gruppo di cattura uno che inizia di qua e finisce qua ma al tempo stesso ho un altro gruppo di cattura annidato che ovviamente viene numerato in ordine progressivo che inizia qua e finisce qua e poi qui sotto avrò il numero 3 e qua il numero 4 e quindi questi sono i gruppi di cattura uno è tutto questo due è questo qua che nel caso specifico non corrisponde a niente ok e 3 è questo e 4 è quest'altro quindi in realtà con questa configurazione a me interessa il gruppo di cattura uno il 3 lo ignoro perché tanto è incluso nell'uno il 3 e il 4 sono quelli che mi interessano quindi qui vado a mettere 3 e poi 4 altrimenti il gruppo 2 era nullo perché ovviamente non ha catturato niente quindi in questo caso di nuovo correttamente anno 20 mese 5 giorno 25 l'alternativa è di utilizzare quelli che si chiamano i non capturing group ovvero delle coppie di parentesi che non vengono considerate nel conteggio dei gruppi questi sono sostanzialmente descritti con questo punto interrogativo due punti quindi vuol dire questa è una parentesi ma questa parentesi non viene contata in termini di gruppo di cattura quindi questo pur essendo una parentesi non conta quindi questo qua è il gruppo 1 quello lì non conta quindi questo continua a essere il gruppo 2 e questo torna ad essere il gruppo 3 in questo caso mi serve il gruppo 2 e il gruppo 3 di nuovo andando ad eseguire ho di nuovo riconoscimento corretto e quindi tutto questo sostanzialmente per andare a riconoscere una data domanda in 0 9 trattino allora scusate c'è una domanda dell'esempio che vi ho fatto prima questo allora in questo caso il primo trattino viene interpretato come intervallo e il secondo trattino essendo un ultimo dell'intervallo di caratteri viene interpretato come trattino vero e proprio in quest'altro caso invece il trattino essendo fuori da un set di caratteri viene sempre comunque interpretato come un trattino quindi il segno meno quindi se la volete espressa completamente il trattino viene interpretato come un carattere tale quale se si trova fuori da una classe di caratteri mentre invece all'interno di una classe di caratteri viene interpretato come un carattere effettivo se è il primo o l'ultimo mentre invece viene interpretato come intervallo se non è nel primo o nell'ultimo è più facile capirlo e intuirlo con qualche esempio piuttosto che dirlo completamente esattamente esattamente quindi in questo caso in questo secondo caso significa o una cifra o un trattino oltre a il matches noi abbiamo anche la possibilità di utilizzare i pattern per andare a fare dei riconoscimenti che non siano specifici di tutta la striga che noi andiamo a fornire perché ovviamente se io qui metto 2020 05 25 spazio ho un non riconosciuto perché perché sostanzialmente qua in fondo alla mia espressione regolare non c'è niente che sia in grado di riconoscere uno spazio ok quindi il mio matcher quando chiamo il metodo matches pretende che tutta la stringa sia riconosciuta senza saltare niente senza escludere niente dalla espressione regolare quindi se ho dei caratteri in cima o in fondo o da qualche parte che non corrispondono all'espressione regolare questa non viene riconosciuta e questo è un problema il secondo problema è io magari all'interno della stringa non ho un'unica occorrenza delle mie espressioni regolari ma ne ho tante quindi la mia espressione regolare compare più volte e quindi voglio applicare il riconoscimento non una volta sola ma più volte per questo motivo si utilizza un altro metodo che si chiama find domande un paio di domande prima di andare avanti col find questo punto interrogativo due punti significa non contare queste parentesi come gruppo esattamente e non si confonde con altre varianti di look ahead o look behind perché per l'appunto due punti non c'è in nessun'altra notazione la seconda domanda è praticamente la stessa quando io utilizzo aperta tonda punto interrogativo due punti vuol dire che questa coppia di parentesi da qua fino a qua scusate fino a qui non viene contata quindi questa qua che inizia con punto interrogativo due punti significa che non verrà contata nel numero di gruppi mentre invece nell'esempio precedente quello che c'era qua sopra non essendoci il punto interrogativo due punti all'inizio questa viene contata nei gruppi e quindi il gruppo corrisponde all'indice cioè man mano che incontro delle parentesi aperte quelle le conto come gruppi e quindi la prima parentesi è il gruppo 1 la seconda è il gruppo 2 la terza è il gruppo 3 e la quarta è il gruppo 4 in questo caso qui inizia il gruppo 1 qui inizierebbe un gruppo ma qui il punto interrogativo due punti mi dice di non contarlo e quindi non vado a numerarlo 2 e 3 scusate 3 inizia con questa parentesi ok benissimo spero di aver chiarito le cose che c'erano prima quindi il find che cosa fa? invece di andare a pretendere che tutta la stringa corrisponda all'espressione regolare va a cercare all'interno della stringa occorrente della mia espressione regolare per cui se io ho la mia stringa S uguale a oggi due punti 2020 05 25 ieri due punti 2020 05 24 io vorrei andare a riconoscere queste due espressioni regolari qui dentro e quindi cosa faccio? faccio while ovviamente devo andare a creare un matcher m uguale a data punto matcher della stringa in input while m punto find quindi finché riesco a trovare corrispondente la mia espressione regolare all'interno della stringa principale S vado a stampare sostanzialmente anno mese e giorno vado a mettere scusatemi una stampa di un trattino orizzontale in modo da essere meno confuso nell'output a questo punto quello che ottengo vedete nel mio output è per l'appunto facciamo così e lo rieseguo quello che ottengo nell'output è 2020-05-25 quindi questo è il primo match e poi 2020-05-24 che è il secondo ok quindi mentre il match è rigoroso e pretende che la stringa sia esattamente tutta riconosciuta dall'espressione regolare il find che abbiamo visto qua è molto più rilassato e quindi va avanti nella stringa che deve riconoscere e appena riesce a trovare una corrispondenza dell'espressione regolare la restituisce non si sente più ok allora ho provato a disattivare e riattivare l'audio funziona adesso ok perfetto non so cosa sia successo comunque forse l'abbiamo l'abbiamo risolta in ogni caso io registro in locale tutto e quindi non dovrebbero esserci problemi non credo che sia un problema fisico del microfono ok uscendo rientrando allora diciamo che in questo caso vorrei evitare di riuscire a rientrare dalla stanza perché è una cosa un po' lunga ma dovrei funzionare dovrebbe funzionare a questo punto scusate torno al nostro metodo find find che cosa fa cerca all'interno della stringa appena trova una corrispondenza me la restituisce quindi find mi restituisce true appena ha trovato una corrispondenza a quel punto group oppure group con l'indice mi danno gli elementi e se chiamo un'altra volta find la corrispondenza viene cercata andando avanti quindi progredendo nella stringa per cui la prima volta che find mi restituisce true praticamente mi riconosce questa stringa la seconda la seconda volta che find mi restituisce true mi restituisce mi riconosce questa e sostanzialmente ignora tutte le i caratteri in mezzo che non corrispondono a delle stringhe domanda in termini di implementazione più veloce una regex oppure un ciclo for tendenzialmente se l'espressione è molto semplice un ciclo for è probabilmente più efficiente anche più facile da scrivere tenete presente che però se avete delle espressioni regolari abbastanza complicate scrivere dei cicli for che vanno avanti riconoscono tutte le alternative è una cosa molto complicata mentre invece un'espressione regolare tendenzialmente la scrivete in 5-10 minuti e avete risolto il problema comunque le espressioni regolari sono molto efficienti l'eventualità in cui voi dobbiate andare a non utilizzare un'espressione regolare ma scrivere voi direttamente il codice di riconoscimento sono piuttosto rare ok per cui il nostro find è in grado di riconoscere in maniera un po' più agevole le espressioni regolari e soprattutto permette di fare più riconoscimenti all'interno della stringa procedendo di volta in volta e andando avanti ok a questo punto un'ultima variante io posso andare a utilizzare le espressioni regolari per andare a riconoscere degli elementi anche all'interno di uno stream per cui immaginiamo di avere un'array di string date uguale 2020 05 25 2019 07 13 1945 0101 e poi andiamo a mettere qualcosa che non è una una data ad esempio 2033 slash 17 34 quello che io potrei fare se volessi andare a utilizzare una espressione regolare per filtrare tutte le date che corrispondono alla mia espressione regolare potrebbe essere fatto in questo modo quindi posso fare uno stream of date posso fare un filter che va a prendere il matcher quindi fa data punto matcher della data l'input e la data punto matches e poi faccio ad esempio un for each system punto auto due punti punti println stream lo devo importare dal package java utili stream a data l'ho scritto più volte quindi fatemelo scrivere qua pattern term data ok in questo caso è finale a questo punto se non ho fatto errori fatemi mettere un altro trattino dovrei andare a riconoscere tutte le date corrette e scartare quest'ultima data che invece ovviamente non corrisponde all'espressione regolare che abbiamo qua quindi vado a fare un filtro in base a quello che è l'espressione regolare ovviamente questo è un po' complicato per cui un'altra possibilità è quella di fare redata punto as predicate questo sostanzialmente mi restituisce un oggetto di tipo predicate che ricordate predicate è una interfaccia funzionale che è un unico metodo che si chiama test che prende un oggetto e restituisce vero o falso quindi fa sostanzialmente esattamente questa operazione per cui in questo caso ottengo esattamente lo stesso risultato utilizzando il predicato senza dover senza dover andare a scrivere tutte queste espressioni vi faccio notare che volendo invece di fare questo terza variante potrei definire un predicate un predicate di string data corretta uguale re data is predicate predicate lo devo importare in realtà e a questo punto qui vado a scrivere data corretta quindi questa scrittura è ancora più compatta e mi permette come al solito di andare a prendere soltanto le date corrette e scartare quelle non corrette per cui posso utilizzare delle espressioni regolari tranquillamente all'interno di una di uno stream utilizzando questo es predicate che prende l'espressione regolare e mi restituisce l'oggetto predicato corrispondente a creare un match chiamare match e darmi il risultato ad esempio se io vi chiedessi di andare a scrivere un'espressione regolare per riconoscere quelle che sono i mail valide del Politecnico di Torino come la scrivereste vi lascio 5 minuti per rifletterci e dopo di che vediamo assieme la soluzione ovviamente se avete domande in chat sono a disposizione allora l'obiettivo è quello di lo scrivo anche qua scrivere espressione regolare per riconoscere i mail valide del Politecnico di Torino sia studenti che personale per cui intanto per farvi un paio di esempi sono email valide marco.torchiano at polito.it oppure s 999 at studenti punto polito punto it ok prendo un bicchiere d'acqua e sono di nuovo da voi esiste anche il formato di sì diciamo che non ci sono limitazioni di caratteri ok per per nome e cognome se volete se volete vi complicate la vita mettete il limite di caratteri ma iniziamo senza il limite di caratteri che è un po' più semplice ok arrivo subito di caratteri la moglie di caratteri la notte di caratteri inizialta Grazie a tutti. 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 Allora, vado a prendere la prima che mi avete messo in chat e proviamo a metterla qua. Ok? Quindi abbiamo detto pattern email poly uguale a pattern.compile e poi... Allora, questo è l'esempio, quindi abbiamo string quadre email uguale... Andiamo a mettere queste tre che abbiamo scritto qua, giusto per verificare che funzionino. Ok, non ho guardato nel dettaglio l'espressione regolare, facciamo proprio a test e dopodiché andiamo a esaminare nel dettaglio per capire se ci sono delle limitazioni. O se la possiamo riscrivere in altro modo più o meno complicato. Questo punto... Andiamo a scrivere la stessa cosa, quindi andiamo a prendere email e andiamo a mettere email poly.spredicate. Ok, qui se vado a stampare non me ne ha riconosciuta nessuna. Allora, studenti... Punto... La chiocciola è giusta... Qui ho... Allora, attenzione... Qui ho S oppure D. In realtà S oppure D dovrebbe essere tra parentesi tonde, o meglio ancora, perché ho un carattere o l'altro. O meglio, in maniera un po' più compatta posso mettere S e D, quindi uno dei due caratteri, seguito da una ripetizione di sei volte le cifre da zero a nove. In realtà per i docenti le cifre possono essere, diciamo, da quattro a sei. Il più qua non serve, nel senso che vuol dire ancora ripetere più volte, almeno una volta. Quindi, qui stiamo dicendo il carattere S o D, seguito da... Questa parentesi tonda non è estrettamente necessaria, quindi S o D o S oppure D, seguito da una cifra ripetuta da quattro a sei volte. Oppure, a z oppure a z, in realtà, questo scritto così vuol dire che io posso ripetere soltanto le lettere minuscole. Ma in realtà lo posso scrivere così, quindi posso scrivere a z, a z. E questo una o più volte, quindi devo avere almeno una lettera, quindi non abbiamo messo nessun limite. Poi, la chiocciola, corretto, seguito da, eventualmente, studenti, con il punto e poi polito.it. Non è banale, poi scritto velocemente, non avendo un minimo di esperienza, diciamo che questi errori sono abbastanza comuni. Anzi, probabilmente alcuni di questi magari li avrei fatti io scrivendoli direttamente al volo. Per cui, a questo punto, un errore, ah no, scusate, qui non è un quattro o sei, ma è una virgola. Vedete che già la sintassi. Ok, quindi a questo punto abbiamo questi due che sono riconosciuti. Non è stato riconosciuto il primo perché sostanzialmente in questa sequenza di caratteri sono previste soltanto lettere alfabetiche, mentre invece qua c'è, in realtà qui sotto, c'è un punto. Quindi, oltre a questi, potrei anche andare ad aggiungere il punto per includere anche il punto lì dentro. Poi vado a vedere anche quelle che avete messo in chat, così eventualmente le commentiamo. A questo punto non me lo riconosce perché a z alla final z, appunto, più Allora, questo non saprei perché non funziona. Allora, il più sta per ripetizione uno o più volte di quello che precede. Allora, altra domanda. Il punto, quando io lo metto così, sta a indicare un qualunque carattere. Ok? Il punto vuol dire qualunque carattere. Quindi, volendo riconoscere esattamente un punto, dovrei mettere il backslash davanti. E anche qua. Allora, tuttavia, non cambia molto, nel senso che non cambia nel riconoscimento. Allora, qui posso riconoscere una qualunque carattere minuscole oppure il punto ripetuto uno o più volte seguito da et. Ah, scusatemi. Il punto interrogativo qua si applica esclusivamente al punto e non a tutta questa cosa. Quindi, è così. Esattamente, che è l'ultimo commento che è apparso in chat. Esattamente quello. Quindi, a questo punto, ecco, funzionata. In realtà, io qua, con se slash punto, sto a indicare voglio esattamente un punto. Se io mettessi soltanto il punto, vuol dire che lì posso accettare qualunque carattere. Quindi, potrei anche accettare l'underscore o una X o... Quindi, volendo essere più stringente è corretto avere il backslash, appunto. Ok. in questo caso mi riconosce anche ovviamente l'altra variante che è questa scusatemi eccoci qua at studenti.polito.it e anche questa mi viene riconosciuta correttamente perché rientra in quella variante. se io invece non volessi avere questa variante dovrei andare a ridefinire l'espressione regolare in modo che se ho S o D allora ho studenti.polito se invece ho un'altra sequenza di caratteri allora voglio avere polito.it domanda 4,6 qui significa da 4 a 6 quindi minimo massimo in alternativa posso mettere un'unica cifra e quello mi dice esattamente quel numero di ripetizioni quindi allora se io volessi andare a escludere questa possibilità quindi obbligare se l'email è del tipo S col numero oppure D col numero ad avere studenti e invece a scartare questa quindi se ho il nome deve essere polito una possibilità potrebbe essere quella di andare a mettere ve lo copio qua sotto e vado a prendere quello che era in chat quindi copio quella che mi avete messo in chat e vediamo se è corretta allora qui ho opzione 1 minuscole ripetuto più volte punto minuscole ripetuto più volte sì allora tenete conto che volendo ci possono anche stare le maiuscole ma va bene et polito politi oppure altra variante S oppure D seguito da una cifra ripetuta più volte qui non ho messo il numero poteva essere 4 o 6 come prima il più vuol dire almeno una volta chiocciolastudenti.polito.it ecco se io utilizzo questa variante dovrebbe scartarmi questo in effetti mi scarta quella variante quindi era corretto allora domanda perché la risposta comunque c'è in chat subito dopo perché metto devo mettere la quota azione davanti al punto adesso lo metto anche qua così è più corretto invece di metterlo davanti alla chiocciola perché per l'appunto la chiocciola non è un operatore particolare mentre invece il punto ma anche il più la parentesi l'asterisco sono caratteri speciali e quindi quelli li devo andare a riportare e quindi devo quotarli mentre invece gli altri la chiocciola ad esempio non ha nessun significato particolare nelle espressioni regolari quindi non devo quotarla scusate sto scorrendo la chat per vedere se mi sono perso qualche domanda una domanda è potrei mettere questo tipo di espressione quindi invece di mettere quello che c'è qua potrei avere questa cosa qua questa variante che tiene conto delle maiuscole e delle minuscole sì in questo caso avrei sostanzialmente la possibilità di avere oltre le maiuscole le minuscole tenete presente che quando vado a costruire un pattern ho due varianti una variante è questa quindi in cui metto semplicemente l'espressione regolare l'altra variante è quella in cui vado a mettere virgola e qui vado a mettere dei flag e i flag sono quelli che vediamo qua allora scusate volevo aprire la documentazione se me lo apre allora non me lo apre in realtà le costanti sono lo vedete qua un po' in piccolo case insensitive multiline unicode unics lines unic character e comments per cui l'alternativa a mettere questo è qui andare a mettere una un flag che è pattern punto case insensitive domanda che differenza c'è tra scrivere qui qui s oppure d oppure è uguale a s oppure d non c'è nessuna differenza attenzione che però s d seguito da diciamo x qualunque cosa sia è invece uguale a aperta tonda s oppure d seguito da x per cui se io non mettessi le tonde avrei s oppure d x nel caso specifico qui avevamo una delle due seguito dalla cifra d e quindi mettendo il backslash d avrei dovuto scrivere così e questo è diverso da scrivere s oppure d seguito da b slash d perché in questo caso ho d seguito da un numero oppure semplicemente s allora domanda questa è un po' più complicata scusate mi copio l'espressione regolare da qua perché altrimenti non ci capiamo soprattutto se uno guarda la registrazione domanda scrivere questo oppure questo è diverso? ovviamente è diverso nel senso che io qui ho per forza un punto in mezzo in questo caso invece io ho un punto seguito da eventualmente un altro elemento in realtà di solito non si scrive più punto interrogativo ma si utilizza l'asterisco che vuol dire zero più volte in questo caso però io potrei avere punto seguito da un altro nome oppure il punto e basta perché questo qua è opzionale per cui se vogliamo mettere quella cosa come opzionale scusate replico questo qui è uguale a scrivere questo con l'asterisco ma potrei anche scrivere in maniera forse un po' più corretta punto seguito da az più il tutto opzionale questo vuol dire che posso mettere una sequenza di caratteri eventualmente seguita da un punto e un'altra sequenza e poi quello che segue se volessi avere più punti invece di mettere qua un punto interrogativo potrei messere un asterisco dicendo che questo intero blocco qua quindi punto sequenza di caratteri può essere ripetuto più volte da qualche parte prima su avevo visto anche la variante allora ve la riscrivo qua così allora questa espressione regolare qua la posso scrivere in maniera tutto sommato analoga in quest'altro modo quindi la parte polito.it la posso riportare una volta sola qui in fondo quindi ho questo oppure questo seguito da polito.it ok allora qualcuno mi chiedeva della documentazione quando io mi metto qua se faccio control e spazio in realtà qui se faccio control e spazio mi viene data la documentazione delle possibili alternative quindi quella con il flag e quella con il central flag e quindi automaticamente ho anche la documentazione allora quotazione con doppio o singolo backslash io quando scrivo l'espressione regolare normalmente la metto così con un singolo backslash il punto è che se devo andare a rappresentare questa cosa qua quindi se io voglio stampare questo nella stringa il backslash lo devo mettere doppio quindi quando voi andate a scrivere un'espressione regolare all'interno di una stringa in java dovete sempre mettere il doppio backslash per cui backslash punto è il backslash si raddoppia sempre ok a questo punto vi recupero un altro modo di scrivere che qualcuno aveva messo prima in chat che però probabilmente scorso abbastanza su invece di mettere questo az eccetera eccetera quello che posso mettere è un w w vuol dire qualunque carattere che può comparire in un identificatore che vuol dire lettere maiuscole minuscole numeri e underscore per cui volendo posso andare a mettere il punto in aggiunta e poi un'altra un altro carattere di lettera ripetuto eventualmente zero o più volte chiocciola oppure sd seguito da un numero ripetuto almeno una volta studenti seguito da un punto e poi alla fine pulito punto it e questa tonda qua non c'entra nulla ok questo punto verifico solo che l'ultima cosa che ho scritto sia corretta e poi torno a rispondere alle domande che ci sono qua ok quindi mi è in grado di riconoscere le email che abbiamo riconosciuto prima allora allora backslash punto esiste esattamente come backslash di nel senso che vuol dire il punto come carattere e non il punto come qualunque carattere la domanda è se a z punto questo non dovrebbe essere backslash punto sì nel senso che questo deve essere effettivamente un punto altrimenti questo mi corrisponde a un qualunque scusate a un qualunque carattere la versione corretta dovrebbe essere questa quindi w non è una qualunque una stringa di caratteri è un qualunque carattere allora come lo scrivo qua backslash w è un word caratter ovvero sostanzialmente a z maiuscola le minuscole i numeri da 0 a 9 e l'underscore sostanzialmente sono i caratteri che io posso andare a utilizzare per costruire un identificatore in buona parte dei linguaggi di programmazione ovviamente ovviamente di dentro non c'è il punto che io ho aggiunto esplicitamente qua quindi invece di scrivere tutta questa roba qua per andare a riconoscere un identificatore metto backslash w che è un po' più compatto ho messo il doppio backslash perché per l'appunto deve essere quotato trovandomi dentro una stringa tanto per essere chiaro string re uguale questo aere l'abbiamo già utilizzato prima rs diciamo così quindi la reg exp è questa per cui andando a eseguire questo vedete la reg exp è questa scusate non è re ma fatemelo chiamare così così evito di confondermi con altri nomi simili quindi la reg exp è questa vedete che quando io la stampo ho un unico backslash il punto è che quando vado ad escrivere la stringa essendo all'interno di una stringa devo per forza andarlo a quotare quindi l'espressione regolare è questa con i singoli backslash andandola a descrivere in termini di di stringa questo per forza devo metterlo devo quotarlo con il doppio backslash ovviamente questi sono soltanto alcuni modi di andare a scrivere le espressioni regolari per la stessa la stessa espressione regolare stesso tipo di riconoscimento può essere fatto in tanti modi diversi vedete che abbiamo già definito una serie di varianti un altro un altro un altro aspetto che posso utilizzare è volendo andare a riconoscere il nome utente rispetto all'estensione dovrei riscrivere queste espressioni andando a mettere dei gruppi di cattura che è un pochettino più complicato ok spero più o meno di aver chiarito un po' di aspetti relativi alle espressioni regolari le espressioni regolari sono uno strumento fondamentale quando voi volete andare ad analizzare del testo qualunque cosa voi vogliate fare sono lo strumento base che può essere utilizzato se volete utilizzare questa espressione regolare è la base per qualunque filtro antispam che vada a intercettare alcune email, alcune strutture di come sono fatte le email e quindi a partire delle espressioni regolari vado a fare riconoscimenti, vado a estrarre gli elementi e da lì poi posso fare le elaborazioni successive quindi sono uno strumento molto diffuso e che è bene conoscere quindi avete visto come funzionano in java in realtà li potete utilizzare in qualunque altro linguaggio, in tantissimi altri contesti ovviamente in altri linguaggi la classe pattern o la classe match non esistono però l'espressione regolare cioè quella che scrivete qua che abbiamo stampato è sempre quella domanda avendo scritto l'abbiamo fatto prima questa espressione qua io ho usato vedete date che l'ho ridefinito qua se metto data che in realtà è definito poco sopra qua sopra qui quindi eccoci qua data è quello che abbiamo definito qua se io metto qui data mi viene dato un errore in particolare mi dice no scusate non qui ma qui se io vado a mettere data qua l'errore che mi viene dato è local variable data defined in closing scope must be final or effectively final cosa significa? significa che data non è final in particolare data non è final neanche effettivamente perché vedete che l'ho dichiarato qua su l'ho inizializzato una volta l'ho riscritto una volta e l'ho riscritto un'altra volta ancora quindi quella variabile non è final se ricordate quando abbiamo visto le classi interne abbiamo visto che le variabili che io utilizzo all'interno delle classi interne devono essere o dichiarate esplicitamente come final però a questo punto non la posso modificare oppure devono essere effettivamente final ovvero essere definite una volta e non più toccate per cui nel caso specifico qui sotto il nostro re data che è esattamente identico a quello di sopra può essere dichiarato final e quindi posso utilizzare questo qui dentro a questo punto il compilatore è contento perché la variabile che ho dentro la classe interna anonima in particolare dentro questa espressione lambda è effettivamente final e quindi non ha problemi in termini di costruzione di quella che si chiama la closure che poi si porta dietro l'oggetto costruito con questa lambda allora domanda relativa alla lezione quando ho parlato di look ahead o look behind non ho capito dove si deve mettere il minore uguale allora immaginate di voler andare a riconoscere l'estensione polito.it oppure studenti.polito.it fregandocene di quello che c'è prima della chiocciola ma vogliamo andare a riconoscere l'estensione quindi vogliamo andare a capire se è studenti.polito.it oppure polito.it posso andare a definire un pattern diciamo host uguale pattern.compile e qui vado a mettere studenti. punto punto interrogativo quindi questa cosa qua può esserci o meno polito.it e questo è quello che noi vogliamo andare a riconoscere è ovvio che io potrei andare a riconoscere questa questa sequenza ovunque quindi potrebbe esserci un indirizzo web in cui c'è polito.it invece mi interessa riconoscerlo soltanto come seconda parte di un'email questo vuol dire che devo poter riconoscere questo se e soltanto se è preceduto da un da una chiocciola ovviamente ovviamente io posso mettere chiocciola però a questo punto lui mi riconosce non soltanto quello ma riconosce chiocciola eccetera eccetera in realtà nelle espressioni regolari io posso utilizzare quello che si chiama un look behind per cui andare a dire che voglio che questa cosa qua abbia la head che lo precede e poi voglio andare a riconoscere pulito.it domanda in questa espressione regolare cosa significa quello prima di lo slash è per quotare il punto se questa è la domanda perché voglio che sia un punto effettivo e non un qualunque carattere per cui host.match pulito.it m uguale m.matches m.group quindi questo mi dovrebbe riconoscere esclusivamente il suffisso no scusate m.matches no perché mi riconosce tutto ma in realtà find vedete che mi ha riconosciuto soltanto la parte di suffisso se io invece vado a mettere la stessa espressione regolare non utilizzando il look behind ma mettendo direttamente la et quello che ottengo è che riconosco anche la chiocciola quindi il look behind serve per andare a garantire che la stringa che riconosco sia preceduta da qualcosa nel caso specifico dal carattere chiocciola se io metto direttamente il carattere chiocciola allora quel carattere viene incluso nella stringa riconosciuta questo è come funziona il look behind ovviamente oltre al look behind ve li riepilogo velocemente qua ho quello che si chiama il positive look behind che quindi vado a scrivere in questo modo quindi punto interrogativo minore uguale qui vado a mettere quello che voglio riconoscere ho anche il positive look ahead dove metto l'uguale ovviamente ho anche la versione negative che vuol dire riconosci qualunque cosa purché non ci sia quel pezzo quell'espressione regolare prima in realtà altro dopo ok a questo punto direi che se non ci sono altre domande per oggi potremo anche concludere qua quello che faccio è di andare a fare il commit del codice che quindi a questo punto trovate sul solito repository perfetto allora per oggi direi che abbiamo concluso noi ci rivediamo mercoledì vi metterò poi un'altra lezione più teorica entro entro mercoledì e noi ci rivediamo invece mercoledì mattina per un'altra lezione in diretta a questo punto trovate i ma